Lick, ben ritrovati i miei cari avventori dell'Usona Barcaccio, sospendiamo un attimo il testing BFC e questa sera facciamo un attimo il punto della situazione per quanto riguarda allenatori, giocatori, entrate, uscita e valide eventuali, quindi rimanete adesi e coesi perché questo sarà un video abbastanza ricco di informazioni. Bando alle ciance, ovviamente iscrizione, condivisione, mi piacino, pollice alto e cominciamo subito ed iniziamo appunto da quello che ci intriga più di tutti, è inutile nasconderlo, ossia chi guiderà la stagione della Coppa Campioni della Champions League dopo 60 anni qui al Bologna, dopo il favoloso, fantastico quinto posto ottenuto quest'anno, perché ancora non si sa, ancora brancoliamo nel buio anche se Fabrizio Romano Un paio di giorni fa è venuto, tra virgolette, il nostro soccorso, ha parlato di Bologna in quanto ha parlato di Vincenzo Italiano e parlando di Bologna Italiano si narra che le parti siano in contatto telefonico, presto è anche previsto un incontro, verosimilmente dopo la partita di domani che conclude la Serie A italiana, perché forse qualcuno di noi si è dimenticato che si deve ancora giocare Atalanta-Fiorentina E dunque italiano allenatore della Fiorentina deve ancora scendere in campo con la compagine viola, dopodiché quindi ogni giorno potrebbe essere buono, quindi si parla già sul piatto di cifre, non è ben chiaro se venga offerto direttamente un triennale, se venga offerto un 2 più 1, verosimilmente la cifra sarebbe sui 2 milioni e mezzo, mi è parso di capire, magari barra 3, Che verrebbero corrisposti a Vincenzo Italiano e però lo stesso Italiano appunto vuole capire il progetto del Bologna quale possa essere perché si è parlato che appunto più che numi riguardo all'ingaggio dove, parliamoci chiaro, l'accordo si troverebbe, non sarebbe lì un problema Quanto voglio vederci chiaro per quanto concerne le garanzie tecniche che la società possa dargli, quindi voglio un attimo capire quali possano essere le entrate e le uscite, le intenzioni anche di spese, di saputo, vedremo tra l'altro se verrà confermato questo piano triennale di cui si era parlato con Tiagomotta per cercare di farlo permanere, cioè 100 milioni spalmati nei prossimi trienni, Che poi io penso, credo, non lo so, verrebbero poi gestiti da Sartori, per cui se Sartori volesse spendere, che ne so, 35 nel primo anno e poi accalare nel secondo, voglia spendere 60 nel primo anno e poi accalare nel secondo e nel terzo, spero, credo, penso che possa essere Sartori a deciderlo, oppure gli verrà dato 33,3 periodico quest'anno, 33,3 periodico il prossimo e 33,3 periodico il terzo anno. Qui staremo a vedere, anche se staremo a vedere con il cambio di allenatore, saputo voglia impegnarsi in tal investimento che magari per Tiagomotta avrebbe fatto a cuore abbastanza leggero, invece con qualche durata allenatore prima magari piace capire come possa innescarsi anche l'alchimia con la squadra. Sotto un certo punto di vista ci starebbe anche nel senso che, ovviamente, un allenatore nuovo, dopo tra l'altro la grandissima cavalcata di quest'anno, dove tutto ha funzionato, è un'incognita, è un'incognita che che se ne possa dire su italiano, no? Che si dice allenatore che comunque con la Fiorentina ha sempre raggiunto gli obiettivi, ha raggiunto tre finali, tutte perse, bisogna sottolinearlo. Il gioco della Fiorentina, nell'ultimo tempo, circoscriviamo nell'ultimo periodo, non era bellissimo, dobbiamo tornare un po' più indietro, sette, otto mesi fa e a ritroso per vedere una Fiorentina che giochi bene. Le difese di italiano, almeno quest'anno, mi passo di ricordare, siano ballerine, ma anche ricordando la finale di Conference League, sì, l'anno scorso con West Ham, non era mica tanto rosa e fiori, mi ricordo un'ultima azione da Paiura. Comunque, detto questo, italiano è in polma, non è l'unica soluzione, in quanto pare che ci si possa tenere una pista per un eventuale piano B. Piano B che non è ben chiaro da chi possa essere rappresentato, i giornali scrivono Raffaele Palladino, però io mi riservo un'incognita che magari il Sartori, con la famosa Sartoriata, ci possa tirare fuori, chissà che non possa essere Paolo Vanoli, di cui abbiamo parlato l'altra sera e ne abbiamo caldeggiato la Sartoriata. Detto questo, addentriamoci, capitolo giocatori in uscita e in entrata, perché, allora, in uscita, in realtà il Bologna sicuramente vorrà piazzare qualcosa, è innegabile, però l'idea, a mio avviso, è un giocatore, se importante uno solo, magari due, barra anche tre giocatori di quelli meno importanti. Faccio degli esempi. Ci sono addirittura in ballo i riscatti o meno di Selemakers e Christiansen. Certo è che riscattare Christiansen a 15 milioni e non riscattarlo ti va già a liberare come se tu avessi fatto potenzialmente un acquisto, perché tu decidi di non avvalerti della spesa di quei 15 milioni che avresti potuto fare, allora quei 15 milioni possono tornare utili per qualcos'altro. Ecco che ti rientrano virtualmente, a meno che uno non avesse fatto questo perché tanto sapeva che non l'avrebbe mai fatto. Stessa roba per Selemakers. Selemakers il riscatto è sui 10 milioni, con i Mila, che tra l'altro è interessato a Zezze, per cui potrebbe rientrare in una sorta di ballo della trattativa. Stiamo a vedere, perché Selemakers era un uomo di Tiagomotta, sappiamo tutti che è stato chiamato da lui al telefono per convincerlo e l'ha convinto, in men che non si dica ad accettare il progetto a Bologna, Tiagomotta è stato fondamentale in quella trattativa. Bisogna vedere se è uscito Tiagomotta, Selemakers è così incedibile come lo paventavamo tre settimane fa. Adesso qua, secondo me, rientra un po' tutto in ballo. Poi, una volta capito questo, bisogna capire che cosa ne sarà di Zezze e di Calafiori, perché è in dubbio che se da una parte noi tutti i tifosi vorremmo che permanessero, è altrettanto in dubbio che per Calafiori c'è la spada di Damocle che pende su di noi, perché c'è Tiagomotta che va alla Juve e che faranno carte false da quello che mi è perso di avere intuito per riuscire ad avere Calafiori. Ma la società, appunto, non è dell'idea di venderlo e Sartori promette battaglia, staremo a vedere sperando che si possa vincerla, ma su Zezze, perché se su Calafiori possiamo decidere al massimo trattenere contro voglia, che anche qua ovviamente bisogna fare i conti anche su questo, bisogna quindi ragionarci, bisogna parlare con il ragazzo, ma su Zezze non abbiamo neanche questa possibilità, perché su Zezze c'è quel famoso contratto dove dice che fino a fine di luglio qualsiasi società che ti viene ad offrire 40 milioni di euro, tu ovviamente non puoi metterci becco e l'unico che può metterci becco è Zezze, stai sul suo entourage, quindi il Bologna non ha voce in capitolo. A che c'è da chiedersi? C'è da chiedersi. Conviene a questo punto che possa magari riacquistarlo proprio il Bayern di Monaco stesso? Perché qui c'è la novità? La novità è che il Bayern di Monaco ha comunicato che il nuovo allenatore del Bayern, del Bayern, è Vincent Kompany. Vincent Kompany che guarda caso, vede in Zezze, tratto Kompany, che se non erro allenava Landerlecht, Zezze viene, se vi ricordate, no? L'anni fa da Landerlecht e quindi Kompany si narra, tutte voci poi da confermare, ma si narra che voglia riportare Zezze là in Baviera e andando a ritroso con pensiero Zezze anni fa disse io sono qua, mio obiettivo è tornare là. E poi anche qua, se vendiamo, faccio delle ipotesi, Zezze ha la squadra Paperino X per 40 milioni, per poi dover appunto dare il 40% sulla plusvalenza al Bayern di Monaco c'è da chiedersi. Non conviene loro a questo punto vendere al Bayern di Monaco? Dove? Ci ho capito bene, ma non lo so questo. Bisognerebbe informarsi, magari questa clausola non si riattiverebbe e si rioterebbero 40 milioni puliti. Qui non sono sicura, perché magari potrebbe valere anche per il Bayern stesso, perché viene considerata comunque una cessione, per cui non cambierebbe un cazzo. Però insomma c'è da capire questo, perché nel qual caso cadrebbe quella clausola, forse addirittura conviene venderlo al Bayern di Monaco a questo punto. Posto che, ovviamente, si spera che possa essere, se no, quel famoso gentleman agreement con Zezze, che magari possa venire in nostro soccorso, dico io, dico io, dico una roba. Però si aspetta in accordi con lui fino a fine luglio, inizio agosto, e poi si fa la promessa a lui che avrà ceduto, però ad agosto non vale più la clausola dei 40 milioni, per cui lo si vende magari a qualche altra compagine, che ne so, dico io, a 60-70, e alla fine non saremmo tutti contenti. Però insomma il Bologna ricaverebbe qualcosa in più, senza venire meno alle clausole contrattuali, senza fare chissà quali torti a nessuno, perché comunque il Bayern di Monaco prenderebbe lo stesso la sua diaria, e sotto un certo punto di vista si agirebbe la cosa. La butto lì, ma sono cose, appunto, che poi vanno verificate. Detto questo, c'è da pensare, appunto, e da guardare, però in entrata, allora a questo punto il Bologna chi va a prendere? E, restando sulla punta, Zig Zee, no, in uscita, stiamo restando che comunque sia Zig Zee, Odgaard e Castro, non bastano, ovviamente, per Coppa Italia, Serie A e Champions League. Il quarto ci deve essere, se siamo in tre, rischiamo di vendere Zig Zee, vuol dire che ne dobbiamo comprare almeno due, di cui uno deve essere super top. Io dico, no, non è che possiamo, ok, vendere un asso da 90 e prendere una briscola del 2 di bastone. Certo è che i nomi che si stanno facendo in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, diciamo, non è che lasciano ben sperare. Fermo restando che conosciamo tutti come agissi il buon fiducia Sartori, ossia da da pensare al giornale di turno di essere sui profili A, B e C e poi ti va a prendere i profili che non ti aspetti, quindi io mi aspetto questo, ecco, diciamo. Però, insomma, dovendo dichiarare quello che si sta vociferando, si vocifera un ritorno di fiamma dello stesso Sartori su Strand Larsen, quel famoso giocatore che all'epoca, mi pare di ricordare, fosse del Groningen e che adesso, però, da un paio d'anni gioca nel Celta di Vigo. Celta di Vigo, dove non ha brillato nella prima stagione, ha fatto molto meglio in questa seconda, però, insomma, rimane un profilo, passando da Zig Zee a Strand Larsen, è tutto da verificare, oltretutto che, appunto, il campionato italiano sarebbe roba nuova per lui e ha faticato, e non poco, ad adattarsi a quello spagnolo. Detto questo, il Bologna, però, sonda anche altre piste, qualcuna già nella Serie A nostrana, ad esempio Noslin, che tanto bene ha fatto al Veroni in questo scorcio da gennaio a giugno, prelevato per poche manciate di milioni dall'Olanda, tra l'altro, e Noslin si è rivelato a essere un ottimo, che poi, cos'è, è un'ala offensiva, che può fare, anzi, è un'ala offensiva, è un'ala offensiva, quindi potrebbe, potrebbe, ecco, magari tornare utile, nel qual caso non si voglia di riscattare, dico io, un tizio per poi andare su Caio, cioè su Noslin. Poi, ha parlato la gente di Zerbin, il cartellino Celà Napoli, no? Alessio Zerbin, che anche lui fa di mestiere l'ala offensiva a sinistra, ma l'occorrenza a destra può anche di essere disimpegnato, e la gente ha detto lo stima Sartori, che cosa avrà voluto dire? Lo scopriremo presto. In ultimo, chiudo dicendo che un centrocampista che, su cui Bologna pare essere molto forte e interessato e voler chiudere a breve, è Tesman, lo statunitense, che ha fatto molto bene questa stagione in Serie B, che, guarda caso, ha come allenatore proprio Paolo Vanoni, che chissà mai non possa essere quella Sartoriata di cui si narrava ad inizio video. Chiudo, l'ultima che mi è venuta in mente adesso, per la difesa, ovviamente, dovesse uscire Calafiori, si parlerebbe di Brassier, ok? Quel difensore francese che quest'anno, nel campionato della Ligue 1, ha fatto molto bene. Ragazzi, io qui a chiudo, fatemi sapere la vostra che cosa ne pensate a riguardo di tutto, campionaccio pastorale sempre attivo, e noi ci sentiamo alle prossime. Ciacchia da mare!